Superman, Superman, cosa ti rende diverso dagli altri supereroi di Metropolis? Ottima domanda. Sai, il vero motivo... Lo dico io, è perché lui ha un partner. Un partner? Forza, ragazzi, scattate pure. Oh, sì! Due eroi al prezzo di uno, dico bene, Super? Bello? Amigo? Ok, che cosa credi di fare? Canto il nostro tema! Quello sarebbe il nostro tema? Tu chi sei? Dai, bello il verde, la lanterna... Bello, sono... A pezzi, davvero a pezzi. Senti, torcia verde, hai preso punti per non avermi copiato il blu e il rosso, ma... Non sei proprio al mio livello. Neanche a quello della Justice League... No! Ok, ti messaggio, partner! Una consegna per una festa sorpresa dall'altra parte della città entro dieci minuti. Trova da ridere, eh? Visto che ho fatto? Eh, pronto? Senza torta non è una festa. Niente paura, Tommy! Sweet Justice va dritto alla meta! Sì! Ora metti la torre qui, il pedone lì, sposti l'alfiere, muovi il pedone, l'altro pedone, poi la regina e... Gacco matto! Ho vinto! Mi devi 20 dollari! Oh, salve! Potrei avere un burrito? Magari tre burrito? Oh, oh, oh! Dieci! Dieci vanno bene! Mille burrito! Ci volevano proprio! Grazie! Metteli sul conto di Barry! Chi è Barry? Karen sarà felice del regalo di compleanno! Niente paura, Goldberg! Sei in ottime mani! Oh! Goldberg! Ho ordinato il pollo! Devo trovare un contenitore! Troppo freddo! Troppo caldo! Oh! Oh! No! Preso! Wow! Chiosco degli hot dog in centro? Passesco! Ti va un po' di lotta al crimine? Mi sa che ho perso l'anello! Lantern, parti questo weekend! Dove sei bello? Ah, eccoti qua! Devi liberarla subito! Ci penso io, Superman! Superman? Ci penso io! Bello! Guarda questa roccia verde! Così! L'uccicante! Porta la mia! Superman! Ti prego! Il parco! Giochi a molla! Sbagliere! E le mie preferite! Le altalene! Facciamolo! Me la tieni un attimo? Grazie, caro! È il mio palloncino! Oh, no! Grazie, caro! Oh, no, 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 no! Ce la faccio! C'è mancato poco! La torta! Grazie, Flash! Figurati! Tienilo stretto! A cavolo! Festeggia già la vittoria sul Metropolis! Ehi, che succede? È un miracolo! Metropolis a meta! Non dire così, Goldberg! Vuoi ancora farcela! Sì? Che ti serve? Mi serve il tuo aiuto. Oh, bello! Che fai qui fuori? Che è successo? Sono stato colpito da uno strano raggio! Ma credevo che sono la kriptonite! Un raggio di kriptonite, cavolo! Non so se sopravvivrò! Ma... Ma il mondo ha bisogno di noi! E cosa siamo noi senza di te? Cioè... Siamo sempre fichissimi, ma comunque... Tu devi aiutarmi, partner! Dimmi come! Devi invertire il tempo volando intorno alla Terra! Ripetutamente! E funzionerà? Sì! Sì, io lo faccio spesso! Ok, ok! Ci penso io! Come sto andando? Vai alla grande! Continua così! Ti avverto io quando funziona! Anticipo! Mi scusi! Può aiutarmi? Scusi! 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 Ecco qua, signora! Ha attraversato la strada! Ha attraversato la strada! Io volevo sapere l'ora! L'ora! Ce l'ha fatta! Appena in tempo! Ma certo! Sweet Justice va dritto alla meta! Sorpresa! Buon... compleanno! Oh! Gart, è per il mio compleanno Grazie, è il regalo più bello del mondo Goldberg!